salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi ci troviamo all'alpelusia un posto secondo me spettacolare sempre bello che qua in trentino ovviamente ovunque ti muovi ti muovi bene e prendendo la cabino via che parte appunto da circa 1300 metri ci porta a circa 1800 metri a quel punto ci troveremo in un parco per bambini ma un parco acquatico un parco acquatico di montagna quindi tanti giochi d'acqua ma tutti ricreati in maniera naturale quindi con legno rocce però secondo me è un posto fantastico e poi ovviamente da lì possiamo prendere un'altra cabino via che ci porta ad oltre 2000 metri e in tutto questo ovviamente volerà qualche drone non sono ancora semavic air 2 semavic mini o entrambi li ho dietro entrambi sono tutte e due qua nello zaino quindi entrambi potrebbero volare o solo uno in base alla situazione mete o in base al clima in base un po a quello che diciamo il drone più idoneo alla location quindi ragazzi non perdiamo altro tempo iniziamo questa avventura all'alpelusia e al girodali il parco acquatico qua appunto all'alpelusia partiamo all'alpelusia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.